In diretta da Nadea Fortuna, il nostro fallegibile Bagnino Filippo Tarricciotti che sta attenzando di salvare dalla mareggiata i pochi lettieri Come questo perché dicono solamente che hanno più le piante, la porta è tua Vai, lavora Filippo, vai che ce la puoi fare, su, farsa, farsa Ce la faremo Ce la faremo Ne riparliamo, ne riparliamo quando Poi ne va a prenderla se ce la facciamo Poi ne ripariamo, ne ripariamo Io me ne vado, mi raccomando, domani mattina tutti i lettini a posto Mi raccomando Ma tu c'hai il lettino pagato, almeno il lettino L'ombrello e il lettino Ma tu c'hai il lettino? Ma tu c'hai il lettino? Ma tu c'hai il lettino? Grazie a tutti